ecco Gianluca Manoli pescatore di acqua dolce impegnato in una battuta di pesca qui al pilone sullo spondo possiamo vedere una bella barca a vela che deve fare bunkeraggio di panini con le braciole alla pinnazza scusate stavo cadendo osserviamo anche che panorama stupendo c'è qui questo è lo stretto di Messina signore e signori mica l'ho trovato in tutti i posti del mondo Gianluca sei concentrato vedete Manoli concentrato che sta per ecco prende un paio di palle prende un paio di palle vediamo guardate che bel mulinello sei uno tra gli domani più brutti quando vai a pescare di tutti i tempi è uno scenario straordinario comunque quando bisogna essere seri bisogna essere seri abbiamo preso qualcosa di mutanda attenzione perché anche da me stanno mangiando vediamo se prima di cadere ecco Manoli che prende un'occhiata di modeste dimensioni però è contento è un messaggio per la stampa non rilasci dichiarazioni ecco Manoli che fa il serio un'occhiata di modeste dimensioni per la stampa non rilasci dichiarazioni ecco un'occhiata di modesta dimensioni ma magna εδώ nel regione dove noi dobbiamo Grazie a tutti